L'associazione Genius Loci Architettura di Caltanissetta, il comitato di quartiere Balate Pinselli, hanno sistemato questa villetta in via Ferdinando I. Una villetta che avete sistemato di sana pianta. Che lavori avete effettuato? Dunque, noi i lavori li abbiamo iniziato tre anni fa, togliendo l'erba. Innanzitutto perché qui non si vedeva più niente, era una foresta. A suo tempo abbiamo pubblicato pure le foto su Facebook per com'era e com'era diventata. Avevamo tentato di riprendere tante volte questa villetta per renderla vivibile e godibile, ma non ci eravamo riusciti. Arrivato a un certo punto c'erano delle spese di compensazione da parte dei Sicilacqua e si pensava di fare un parco giochi bambini. Se non che al comitato di quartiere Balate Pinselli si è presentata l'associazione Genius Loci Architetture con questo progetto Rigenera. Ci ha prospettato che con il materiale di recupero, materiale di riciclo, si poteva riprendere questa villetta. Abbiamo sposato immediatamente il progetto e ci siamo dati da fare. Come vedete l'abbiamo resa vivibile, la banca di credito di cooperativo ci ha dato un contributo e abbiamo comprato l'altalena e l'abbiamo finito di montare ieri. I ragazzi della Juvara stanno completando i lavori dei murales che ancora non sono finiti. Arrivato a questo punto, come comitato di quartiere, come associazione Genius, il nostro compito credo che sia finito. Oggi quindi riaffidate la villetta al comune dopo che l'avete sistemata? Certo, oggi noi faremo l'inaugurazione. Abbiamo pensato di farlo prima di Capodanno in maniera tale da offrire qualche cosa alla città. faremo l'inaugurazione, riconsegneremo, anche se non c'è stata mai consegnata la villetta, noi la riconsegneremo al comune così per come la vedete, così come la trovate. Perché anche volendo ad andare, come ho detto pure in precedenza, oltre la retorica ed oltre la burocrazia, il nostro ruolo si ferma, arrivato a un certo punto si ferma, non possiamo andare oltre perché ci sono cose che per legge non possiamo fare. C'è da rifare la pavimentazione comunque? Certo, l'intervento in questa villetta non è completato, l'amministrazione completerà questa attività all'interno di un progetto per quest'area della città che anche attraverso lo spostamento del mercatino settimanale vedrà un'attenzione nel creare un quartiere vivibile, un quartiere che abbia luoghi di aggregazione, abbia delle piazze, contrastando quell'atteggiamento del passato che ha costruito quartieri senza identità. Questo è un altro intervento di riqualificazione che faremo in questa area proprio per dare un segnale ai nostri concittadini che i luoghi in cui si vivono devono essere luoghi che rispettino la dignità delle persone. Grazie